Da bambino il mio sogno era quello di fare lo scienziato. Non sono diventato uno scienziato, ma ho dato vita all'invenzione più importante, la mia impresa. Sono partito da zero, con passione e tanta voglia di mettermi in gioco. E per fortuna qualcuno ha creduto in me. CNA ha sostenuto la mia idea imprenditoriale, dandomi un supporto reale. State pensando di aprire una nuova attività e dovete chiedere un prestito bancario? CNA vi paga gli interessi. Semplice, no? Venite a scoprirlo.